Salve a tutti Youtubers, benvenuti nella zona marina, andiamo avanti a comprare 3 di mar, ragazzi Ce l'abbiamo quasi fatta, l'abbiamo quasi ammazzato a tutti, è rimasto uno Facciamo un po' così, chiamiamo Dufo che è bello e la facciamo fuori Lascia il campo, ok, abbiamo ammazzato a tutti, abbiamo salvato pure un po' di gente Pochi, sono rimasti pochi, due però va bene, lasciamo il campo, ci leviamo dalle palle E' fatta la missione, ragazzi Poi che cazzo non è, guarda Il nostro obiettivo è sempre. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo è il nostro obiettivo. 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 È il nostro obiettivo. È il nostro obiettivo. È il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo 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 è il nostro obiettivo. 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 Ah, lasciamo il campo? Ho capito. Proprio da dove siamo entrati. La stessa strada. La stessa strada. La stessa strada. La stessa strada. Ok, a stessa strada. abbiamo lasciato il campo ragazzi ora torniamo al villaggio ok dobbiamo tornare al villaggio ragazzi guardati social hain di winja salwaita ma spra stani shai ugwasta shajan social heinzwar chan some winja hufina Grazie a tutti. La foglia di battaglia. Eccolo ragazzi, un altro che la possiamo portare, eccolo, forte, uno da poco, con questo, con questo, ben difeso e affronta il suo comandante. Quindi più o meno siamo nella... Vabbè. Adesso, prossima cosa che dobbiamo fare, se ce l'ho la pelle del lupo, non ce l'abbiamo. Oh, ma porca buca, ma come cazzo l'ho la... A costruire a questo qua la casa, no? La cabana. No. 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 Fiore. No. Per le ripasso vediamo un po' qua, ce ne abbiamo un po' qua, per le nostre ricompense, scopo, zero. Vabbè non so che dire, non so che dire, che possiamo fare ragazzi, andare a prendere questo, andare a prendere questo qui, eventualmente, molto difficile, o andare a prendere l'altro, eccolo un altro qui ragazzi, ah ok dai proviamo qua ragazzi, dai su, facciamo questa, poi c'è un po' qua, possiamo fare questo, poi, dai, abbiamo qua, postamento rapido. Ciao. 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 E' un'altra parte! E' un'altra parte! Ma è un'altra parte! Sì, non è vero, non è vero. non ho capito, dove? a, non c'è più, quindi no, niente non c'è più, ma non c'è più ammazza che pote, oh, che è questo? ma donna mia ragazzi, lupi tutti, guarda guarda, non fa niente, la riproviamo lasciamo ristare ragazzi questi perché non, non mi aiuterò non mi aiuterò, non mi aiuterò non mi aiuterò a schizzicarli che no, non mi aiuterò a 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 finalmente fatta fuori riprendiamo le nostre lance che sono molto ma molto ma molto importante nella caverna chissà dove sta eccola qua possiamo rapicarci le qua andiamo su tagliarsi e questo abita qua dentro a 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 sicuramente al 100% quindi allora a 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